93,5 milioni per il finanziamento del Bosco dello Sport di Venezia li ha assegnati al Comune il Ministro dell'Interno di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari Europei. A renderlo noto la stessa amministrazione comunale dando conto della pubblicazione del relativo decreto in gazzetta ufficiale. Si tratta del maxiprogetto previsto a Tessera nei pressi dell'aeroporto Marco Polo che prevede la realizzazione di stadio, arena, completamento della nuova viabilità Tessera Aeroporto, opere di urbanizzazione interna, a verde e di paesaggio, area educational e che inizialmente non era stato ammesso al finanziamento per i fondi PNRR.